Monica chiede, ma sei un filosofo, un mistico o semplicemente uno fuori e basta? E qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video prima di rispondere a questa domanda interessante. Sentiti libero, libera, di lasciare un commento, di condividere, perché è giusto che sempre più persone possano vivere in pace, gioia, felicità, serenità, armonia. E i video di questo canale sono il frutto di viaggi nel mondo visibile, nel mondo visibile, invisibile, 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 tra l'Africa, Amazzonia, India, Nord America, Sud America, sciamani della Russia, eccetera e così via. Allora la domanda è interessante, se è un mistico, un filosofo o semplicemente uno fuori e basta? C'è una riflessione interessante che dice tra uno fuori e un mistico la differenza è che il mistico sa di essere fuori e quello fuori non sa di essere fuori. A parte questa riflessione è interessante vedere come spesso c'è bisogno di dare un'etichetta alle cose, bisogna collocarle in qualche modo nel cervello. Tu cosa sei un dottore? Tu cosa sei un cantante? Tu cosa sei un tennista? Cosa sei? Devi essere qualcosa. E nel momento in cui decidi di essere qualcosa, qualcuno, rinunci a tutte le altre infinite possibilità che la vita ti offre. Quando decidi di essere un calciatore e dedichi tutta la tua vita ad allenarti per essere un calciatore, stai rinunciando in quel momento a tutte le variabili possibili che ci sono nella vita, a tutte le sfumature. Quindi essere qualcuno, essere qualcosa, ti impedisce di essere tutto il resto. E nel viaggio verso la scoperta universale, nel viaggio verso il nulla, nel viaggio verso il tutto, non puoi essere qualcuno, non puoi essere qualcosa, perché sennò rimani lì intrappolato, intrappolato. E l'anima di alcuni personaggi spesso lavoro con persone che hanno grande successo da un punto di vista professionale e quando vengono nelle cerimonie, la loro anima si ribella di bestia, ne vengono fuori di tutti i colori, perché è come un vestito troppo stretto, poi la giacca e la cravatta, che ti tira il collo e tu vai uscire, vuoi liberarti da quella giacca, però il tuo ruolo che ti sei scelto, che ti sei scelta, ti impedisce di essere tutto il resto e la tua anima grida. Così, ti vuoi mettere le scarpette da calciatore, la tua anima grida, dice no, io voglio essere anche un pagliaccio, un cantante, un ballerino, un astronauta, tutto voglio essere. Perché l'anima è il tutto e spesso le persone impediscono all'anima di essere il tutto e la vogliono racchiudere lì, in un'etichetta. Infatti nel mondo del marketing, cosa succede? Si parla spesso di unicità. Quindi tu nel marketing, per ottenere successo, devi essere una cosa sola. In una professione c'era un... non so se ci sia ancora, sono passati un po' di anni. E c'era una gelateria a Milano che si chiamava Chocolat. Era specializzato nel gelato al cioccolato. Pensa alla macchina Volvo, sicurezza, Mercedes, eleganza. C'è tutto un po' di roba di una macchina racchiuso in una sola parola. Eleganza. Mercedes è eleganza. Se cerca di discostarsi da quell'elemento, il suo brand perde di impatto, perde di focus. E quindi non ottiene successo. Quindi il successo nel mondo materiale va proprio contro quella che è l'esigenza dell'anima. Che è quella di essere tutto, di spaziare, libera, tra l'allero, tra l'allana, i boschi falici, insieme alle caprette, insieme ad Aidi. Quindi rifletti. È tutto un equilibrio sopra la follia, diceva. È tutto un equilibrio. Devi decidere cosa fare, che strada intraprendere. La strada del successo materiale nell'unicità di ciò che ti impongono determinate regole di marketing. Oppure se dar retta allo spirito libero della tua anima e divertirti. I bambini prendono con un gioco, lo iniziano, poi lo distruggono, poi iniziano con un altro e via, e via, e via. Non vogliono essere qualcuno, qualcosa. Vogliono semplicemente giocare nel momento presente. Non dedicano tutta la loro vita a diventare il miglior calciatore, la migliore ballerina, il miglior ballerino. E non sto dicendo che sia giusto o sbagliato questa cosa, sto solo facendo una riflessione insieme a te, di come la società ti impone a inquadrare, a incasellare tutto. Tutto deve essere incasellato, perché la mente è limitata, deve mettere un etichetto. Tu cosa sei? Cosa fai? Luca dimmi cosa fai nella vita, ma cos'è che fai? Cosa sei? Giochi con i bambini, parli di alchimia, parli di mondi visibili, invisibili, ti occupavi di vendita. Cosa sei? Cosa sei? Parli l'inglese, il francese. Cosa sei? Balli, canti. Cosa sei? Dove sei? Dimmi cosa sei? Non lo so, non lo so. Cara Monica, non lo so. Appena lo scopro te lo dico. Ci vediamo al prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Rifletti, meditate, meditate, gente. Ciao. Ciao.